il pezzo dai per favore mandami il pezzo dai per favore ho bisogno di sentire queste ore dai Giovanni è la clip è la clip della musica trap non posso ripare ma che c'è state larghi come se fosse successo un qualcosa ogni tanto perdete la brocca è vero che sono le 24 e 45 di notte quindi la Savoretti e tutti voi starete facendo chissà cosa non vi avevo chiesto niente di eccezionale mandami la clip dammi un aiuto dammi un aiuto caro Giovannuzzo dai mandami sta clip